Regione Abruzzo e Inel insieme per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un avviso pubblico in arrivo martedì 4 giugno mette a disposizione 335 mila euro per la realizzazione di progetti di formazione specifica per lavoratori e lavoratrici impegnati in progetti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza. L'iniziativa ha l'obiettivo di elevare la sensibilità sulla sicurezza sul lavoro da parte di aziende e lavoratori. In buona sostanza si vuole promuovere una formazione mirata per migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Un impegno non più rinviabile, soprattutto alla luce dei preoccupanti dati sugli infortuni sul lavoro. L'avviso si rivolge a imprese che partecipano a progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza e che intendono organizzare percorsi formativi per i propri dipendenti. I corsi dovranno essere tenuti da organismi di formazione accreditati e dovranno trattare tematiche specifiche relative alla sicurezza nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro interessati dai progetti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza. L'aumento dei cantieri edili, e non solo, ha reso ancora più importante la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con questo avviso si vuole dare un segnale forte perché la sicurezza è un valore fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio. Le domande di finanziamento potranno essere presentate a partire da martedì 4 giugno. Per maggiori informazioni e per scaricare l'avviso si può consultare il sito web della Regione Abruzzo o dell'Inail.